Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense sabato 9 ottobre. Senza patente, senza assicurazione ed evaso dai domiciliari. E' stato arrestato in via Padova ed è successo ieri pomeriggio nell'ambito dell'attività di controllo con strumentazione Targa System con il rilevamento dei veicoli che circolano privi di copertura assicurativa. A finire nei guai un cittadino albanese residente a Pesaro fermato da un equipaggio di Polizia Municipale. La sua posizione è apparsa subito irregolare agli agenti che hanno accertato in pochi istanti non solo che il veicolo condotto non era coperto da assicurazione ma anche che lo stesso conducente risultava privo di abilitazione alla guida. Per lui immediato il sequestro dell'autovettura e la contestazione dell'assenza del titolo abilitativo, quindi della patente. Dopo però tutti gli accertamenti è inoltre emerso che l'uomo era anche sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga. Inevitabile quindi per lui l'arresto compiuto con la collaborazione di un equipaggio della Polizia e di Stato e la comparizione immediata davanti al giudice. Al via Ferrara la campagna informativa per contrastare le truffe agli anziani. Vediamo. Non ci casco è questo lo slogan della campagna di comunicazione per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani presentata venerdì 8 ottobre nella residenza municipale di Ferrara. La campagna informativa partirà domenica 10 ottobre 2021 con spot su tv, radio, giornali locali e canali social e con la distribuzione di un vademecum antitruffa, brochure, locandine e pieghevoli anche che verranno consegnati nei luoghi di maggior frequentazione, aggregazione e ritrovo degli anziani. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale alle politiche sociali Cristina Coletti la presidente Emilia Migliari di Ancescao, l'associazione nazionale centri sociali e il referente dei servizi di volontariato dell'associazione nazionale carabinieri Fabio Altieri. I residenti del comune di Ferrara che hanno un'età superiore a 65 anni sono quasi 36.000 tra i quali 21.000 sono donne e 15.000 uomini. Coletti ha detto che per ideare e far realizzare questo progetto di prevenzione e contrasto alle truffe l'amministrazione comunale di Ferrara attraverso l'assessorato alle politiche sociali si avvalsa dei fondi del Ministero dell'Interno resi disponibili tramite la prefettura. Il logo e lo slogan identificativi della campagna di prevenzione delle truffe non ci casco è stato ideato dagli studenti dell'Istituto Enaudi di Ferrara. La campagna di informazione conterrà suggerimenti e precauzioni per prevenire e scongiurare le truffe spiegati con linguaggio semplice e immediato che avverta del pericolo su tematiche come furti, scippi, borseggi, truffe raggiri presso la propria abitazione ma anche truffe al telefono, agli sportelli automatici di banca e posta e anche suggerimenti per usare in tutta sicurezza internet. Il materiale informativo è composto di 5.000 brochure con vademecum antitruffa, 6.000 volantini e 300 locandine che verranno distribuiti dai volontari in maniera capillare nei circoli sociali e medici di base, nelle farmacie, nelle parrocchie della città e delle sue frazioni. La campagna sarà anche sui media a partire da telestense con diversi spot in onda nei prossimi giorni. Ancora cronaca, ci spostiamo, andiamo in città, nel cuore della città, in Galleria Matteotti, condotte moleste, minacciose, mancanti di rispetto, spesso accentuate da arroganza nei confronti di alcuni esercenti commerciali e dei loro clienti. Otto minorenni accompagnati dai loro genitori e sei maggiorenni sono finiti in questura per la condotta che tenevano in Galleria Matteotti e nelle zone di Mitrofe, soprattutto durante i fine settimana. Gli agenti hanno spiegato loro le conseguenze eventualmente anche penali per i loro atti legati alle misure di prevenzione, tra le quali il divieto di tornare a Ferrara per i non residenti. Un intervento preventivo, ha spiegato il questore di Ferrara, risultato al momento positivo in quanto i giovani hanno assicurato di osservare le regole della civile convivenza. Ora cambiamo decisamente argomento. È morto all'ospedale di Cona l'uomo di 68 anni, residente a Cento, che come aveva riportato la nuova Ferrara non si era vaccinato e si curava con la telemedicina. Il decesso è avvenuto dopo un mese di ricovero alla Sant'Anna. Il 68enne aveva seguito le cure domiciliari anti-Covid trovate sul web e la procura di Ferrara ora in daga per omissione di soccorso. Era arrivato in condizioni già molto critiche a Cona e a nulla è valso l'intervento di medici e operatori sanitari per salvarlo. È morto per Covid-19 il 68enne ferrarese, residente a Cento, che positivo al virus e no vax convinto, aveva deciso di curarsi a casa utilizzando, come spiega la nuova Ferrara alla telemedicina legata all'associazione Ipocrate.org, la stessa del convegno in Senato sulle cure domiciliari, che aveva scatenato una bufera politica. Sul caso, la procura di Ferrara aveva già aperto un'indagine conoscitiva, ma ora c'è un fascicolo aperto per omissione di soccorso. L'uomo è stato ricoverato per oltre un mese, ma in ospedale era arrivato, secondo quanto ricostruito, in condizioni abbastanza compromesse. Prima si era curato da solo a casa, con un medico a distanza e anche in ospedale aveva tentato di firmare dimissioni e rifiutare le cure. Per il 68enne era stata richiesta anche una consulenza psichiatrica. Dopo la sua morte, la procura, il titolare del PM Ciro Alberto Savino, ha disposto i primi atti dell'autopsia e indaga per omissione di soccorso contro i gnoti. Agli atti, anche messaggi e mail che l'uomo stesso fornì ai medici una volta in ospedale, dove si era recato convinto da una sua amica. Tra i farmaci che gli erano stati prescritti, ci sarebbero anche i vermifughi. E il decesso del 68enne Novax è l'unico del bollettino dove si registrano però anche 13 nuovi contagi e 4 nuovi ricoveri alla Sant'Anna. Continua intanto la campagna vaccinale a Ferrara e in tutta la provincia estense. Il 68enne ferrarese è l'unica vittima del bollettino Covid che fa riferimento alla giornata del 7 ottobre, dove si registrano 13 nuovi casi da Covid-19 individuati con 290 tamponi refertati. 16 è il numero di nuovi guariti comunicati dal Dipartimento di Sanità Pubblica. Un bollettino, quello odierno, che registra anche 4 nuovi ricoveri in ospedale per Covid positivo. A Cona ora sono 24 i posti letto occupati, di cui 4 in terapia intensiva, sui 48 disponibili. Cala invece il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid dell'ospedale del Delta di Lago Santo, dove ora sono 6 posti letto occupati sui 10 disponibili. Sono 270 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, nel giorno in cui si registra un calo significativo dei ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 39, meno 7 nelle ultime 24 ore e 327 quelli negli altri reparti Covid. I decessi sono 3, oltre al 68enne di Ferrara, anche un uomo di 85 anni di Bologna e una donna di 100 anni di Modena. Continua intanto a Ferrara e Provincia la campagna vaccinale. Sono state 594 le dosi somministrate nella giornata di giovedì 7 ottobre. Da inizio campagna sono 274.265 ferraresi che hanno ricevuto la prima dose. I cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose sono 243.400 e 856 le persone che hanno ricevuto la terza dose. Incidente giovedì al casello autostradale di Ferrara Sud, ferito il conducente, ma vediamo le immagini. L'auto che sbanda è il mezzo che va a sbattere contro il guardrail della corsia d'ingresso del casello di Ferrara Sud alla fine del raccordo autostradale della superstrada, poi il ribaltamento. E' questo l'incidente avvenuto giovedì attorno alle ore 15 coinvolto solo un mezzo. Sull'auto alla guida c'era un bondenese di 75 anni che ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Cona per le cure. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Altedo. Lunghe le code che si sono formate all'altezza del casello di Ferrara Sud, il tempo necessario per permettere ai tecnici e agli operai di sistemare i danni e liberare la corsia d'ingresso dell'autostrada 13. Ed è in corso in questi giorni la presentazione dell'annuario socio-economico del CDS che quest'anno si colloca all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021. Prima giornata, quella di venerdì dedicata appunto alla presentazione dell'annuario è stata introdotta dalla Presidente Cinzia Bracci che ha sottolineato come questo sia il primo annuario prodotto dal CDS nella sua nuova realtà di associazione e non più di cooperativa. Un annuario nuovo sia perché senza costi, sia frutto della produzione volontaria di chi ha contributo con articoli e ricerche alla sua pubblicazione. A presentare l'incontro e a delineare il contesto in cui si colloca il convegno sul tema tra pandemia e demografia, progetti ed esperienze di rigenerazione sanitaria e sociale, il direttore dell'annuario, l'economista Andrea Gandini. Si sono poi seguiti gli interventi del professor Pasetti, docente statistico dell'operatrice dell'Empore Solidale in Mantello, Giulia Fiore, sociologa, poi Massimo Buriani, direttore della cooperativa Castello, la dottoressa Elisa Mandolesi, intervenuta sul tema della medicina di prossimità e il dottor Romagnoni, geriatra, dirigente dell'azienda USL di Ferrara. Ora parliamo del patto per il lavoro e per il clima. È stato sottoscritto, lo sottoscrivono anche il Politecnico di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Emilia Romagna. Venerdì c'è stata la firma dei rettori insieme a quella del Presidente della Regione. Vediamo. Il patto sociale per il lavoro e per il clima sottoscritto dalla Regione alla fine del 2020 si allarga al Politecnico di Milano e all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con sede a Piacenza. Il documento su rilancio e sviluppo fondati sulla sostenibilità ambientale ed economica è sottoscritto da tutte le parti sociali, sindacati ed imprese e da tutte e quattro le Università Emiliano Romagnole è stato firmato anche dai rettori dei due Atenei Lombardi. Beh avere il magnifico rettore dell'Università del Politecnico di Milano e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è per noi motivo ovviamente di orgoglio, è un tassello ulteriore prezioso che si aggiunge ai contraenti e ai firmatari del patto avendo quelle dell'Università relazioni con la Regione Emilia Romagna da tempo, in particolare con la loro presenza su Piacenza, è un ulteriore contributo a mettere in rete le varie Università a partire dalle quattro dell'Emilia Romagna, Bologna, Ferrara, Modena Reggio e Parma con queste due importanti eccellenze lombarde ma che già lavorano insediate nel territorio emiliano e quindi questo dà il senso anche di come sia attrattivo il patto per il lavoro per il clima che davvero ci sta permettendo da anni uno strumento di condivisione delle politiche della Regione e quando fai insieme solitamente fai meglio. Il patto per il clima e per il lavoro è uno strumento moderno per leggere le grandi sfide del domani, cioè leggendo la transizione ecologica però non avendo attenzione a quello che è l'occupazione, l'industria e lo sviluppo economico. Il Politecnico di Milano quindi si mette assolutamente allineato a questa impostazione e con le proprie competenze e con i propri studenti come una delle più importanti università tecnologiche d'Europa darà il proprio contributo. L'iniziativa promossa che oggi trova completamente con la partecipazione dell'Università Cattolica, del Politecnico, nella sua stessa definizione sintetizza il grande problema della modernità, cioè la ricerca della conciliazione tra le esigenze del lavoro e una sensibilità verso il tema ecologico che non è più orientato alla conservazione, alla preservazione, al non danneggiamento ma che ha di fronte un impegno di grande complessità, cioè quello di invertire un ciclo di degrado del contesto climatico che se non riportato verso nelle linee che ci si attende potrà generare delle difficoltà enormi e a sua volta andare a influire sulle condizioni di lavoro e di prosperità delle società. Si chiama SPAL e punta a fare gol alle patologie dentali. È il progetto del professor Leonardo Trombelli che la Regione Emilia Romagna ha finanziato nell'ambito del programma di ricerca sanitaria, ha finalizzata un progetto di ricerca SPAL, il nome è un acronimo, al quale si sta lavorando da quattro anni ed è mirato ad aumentare il volume osseo della mandibola del paziente prima dell'effettuazione di operazioni implantologiche in modo da migliorarne il risultato. Il progetto del professor Trombelli che si è giudicato finanziamento di 200 mila euro rientra tra i progetti proposti direttamente dai ricercatori, oltre un centinaio di pazienti già trattati e una sessantina quelli che saranno coinvolti dalla sperimentazione anche grazie, dicevamo, al finanziamento regionale. Il lavoro potrà continuare, ha spiegato Trombelli, con benefici per tanti pazienti, 7 in totale, le aziende e i centri regionali finanziati, tra cui appunto l'azienda USL di Ferrara. Ed è stata inaugurata intanto una nuova farmacia alla Casa della Salute di Copparo. Vediamo. È stata inaugurata venerdì la nuova farmacia della Casa della Salute di Copparo nei locali al piano terra dell'ex pronto soccorso, completamente rinnovato e adeguato alle nuove funzioni. La nuova sede consente di migliorare l'ingresso al servizio con il superamento delle barriere architettoniche, maggiore accessibilità, comodità e funzionalità a questi gli obiettivi dei lavori. Allestita una sala d'aspetto per gli utenti, il servizio farmaceutico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 per l'erogazione di farmaci di fascia H, A e C e tutti compresi nel prontuario terapeutico di area vasta Emilia Centro. Il progetto della nuova farmacia si inserisce in un programma di lavori di miglioramento della Casa di Salute di Copparo, finanziato in parte con fondi statali e in parte con fondi aziendali, circa 570 mila euro, di cui 203 mila per i lavori di trasferimento della farmacia, che riguarderà poi l'adeguamento del poliambulatorio al piano terra, il cui cantiere comincerà entro fine anno e degli spazi dell'ospedale di comunità, i cui lavori partiranno a novembre. Cambiamo decisamente argomento perché il biglietto bus si potrà pagare con carta di credito. Già da oggi il sistema è attivo su tutte le linee di Bologna e della provincia di Bologna e molto presto anche a Ferrara. Da sabato su tutti gli autobus urbani di Bologna si potrà pagare il biglietto con carta di credito e bancomat in modalità contactless. È la prima città metropolitana e italiana a dotarsi di questo servizio. La novità non sostituisce, ma si aggiunge a tutte le altre forme di pagamento. Il sistema, messo a punto da Tiper, non prevede nessun sovrapprezzo e calcola in automatico il dovuto, addebitando la miglior tariffa anche in caso di cambio di autobus. Il sistema è stato sperimentato a Bologna dalla scorsa primavera sulla linea 25. Dall'11 ottobre sarà attivo anche sulle linee di Imola, poi sarà esteso a Ferrara e sulle linee suburbane ed extraurbane. Parliamo ora di sport e ambiente. Appuntamento domani con l'escursione cicloturistica guidata di circa 43 chilometri nel delta del Po. Una manifestazione che si svolge nell'ambito del Festival della Natura coinvolge i territori comunali di Codigoro, Goro e Mesola, partenza da Pomposa. Alla scoperta in sella le due ruote del delta del Po per vivere emozioni straordinarie, un itinerario da fare lentamente accompagnati da un'esperta guida naturalistica che consentirà di subliminare le suggestioni dei luoghi che saranno attraversati dai partecipanti. È l'escursione cicloturistica guidata di circa 43 chilometri che si terrà domenica 10 ottobre con partenza da Pomposa alle 8.30 del mattino. Sono Massimo del team pedale stanco di Codigoro. Voglio fare un appello. Noi ci troviamo qua domenica 10 ottobre alle 8.30 per una bellissima escursione cicloturistica. Partiremo da Pomposa per arrivare a Osica e Nevie, Torre della Finanza, Taglio della Falce, Goro, Torre Abate e ritorneremo a Pomposa. È una bellissima iniziativa per visitare il nostro delta. La manifestazione si svolge nell'ambito del Festival della Natura e coinvolge i territori comunali di Codigoro, Goro e Mesola. Previsto anche un aiuto nel caso di forature e un sistema di recupero per coloro che dovessero stancarsi durante l'escursione ciclistica. Le informazioni sono reperibili all'ufficio IAT dell'Abbazia di Pomposa. Vi aspettiamo domenica 10 ottobre alle 8.30 a Pomposa. Ciao a tutti. Allora due appuntamenti, uno che si è tenuto oggi nell'auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani con l'incontro inaugurale della rassegna espositiva PICTA con l'esposizione delle opere dell'illustratrice e fumettista ferrarese Marta Besantini dal titolo Segni, Sogni e Meraviglie a cura dell'assessorato alla cultura del comune di Ferrara e poi la presentazione del libro di Roberto Pazzi che presenterà la sua opera Hotel Padre Eterno edito dalla nave di Teseo nella piazza centrale del castello di Ferrara di fronte al barriere della cassa. Oggi pomeriggio a moderare l'incontro sarà Matteo Bianchi. Chiudiamo qua il nostro TV giornale per tutti gli aggiornamenti. Vi rimando al sito, la pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Grazie.